congelare o bruciare guarda la nuova sfida per ragazze calde e fredde vedo che non hai fretta rose mi servono 10 minuti scommetto che mi preparerò più velocemente avanti provaci bene vedremo chi vince la fiammeggiante rose è sicura a 100 gradi della sua vittoria bene i miei capelli sono pronti ora è il momento del trucco adoro le tonalità calde oh no il mio rossetto si sta sciogliando devo solo aggiungere un tocco di freschezza ops il mio fardo si sta trasformando in una striscia di ghiaccio beh posso fare a meno del fardo meglio applicare un po di mascara cosa anche il mascara è ghiacciato nicole credo che abbiamo perso entrambe è un pareggio sono contenta di non essermi congelata gli occhi ve lo immaginate non è difficile chiunque può riuscire a capovolgere la bottiglia allora proviamoci va bene proviamo iniziamo beh le ragazze di sicuro non si aspettavano che sarebbe stato così difficile queste sono decisamente le bottiglie sbagliate hai ragione senti nicole perché non usiamo i nostri poteri speciali la mia bottiglia diventerà più morbida grazie al calore e io congelerò il mio drink sei pronta sì ce l'ho fatta sapevo che il mio ghiaccio avrebbe vinto la battaglia del ghiaccio e del fuoco continua sta per fare molto caldo qui dentro che la battaglia abbia inizio sarà la prima ad abbattere la piramide non ho bisogno di abbatterla la brucerò e basta non è giusto le mie tazze sono congelate il ghiaccio ancora meglio inizia prima tu nicole no no tocca a te corriamo il rischio insieme ok vediamo wow una caramella al peperoncino mi piace ho la mia caramella al mentolo preferita beh questa sfida non è così terribile continuiamo a giocare oh no non al mentolo il mio corpo ardente non lo sopporta ora ho paura una caramella fredda aiuto sta bruciando sembra che le ragazze abbiano bisogno di aiuto va tutto bene adesso tutto bene prenderò i vostri dolci pericolosi non mangerò mai più caramelle vieni nicole non aver paura prenderai una bella bronzatura no no questa è una procedura molto piacevole calda calda no è stato bello nicole non essere così arrabbiata non sono arrabbiata sono furiosa la mia povera pelle e barista c'è qualcuno qui beh ciao bello questo è il mio cliente no è il mio lascialo scegliere chi vorresti oh buonasera un cocktail per favore sorprendimi solo uno beh va bene sfida accettata che vinca il più forte wow con un'espressione così bollente rosa non darà a nicola una sola possibilità fatto il mio cocktail di ghiaccio porterà un piacevole brivido e la mia bevanda infuocata ti darà energia per tutta la notte questo lo prendo io grazie il mio cocktail ha vinto che lezione noiosa vorrei dare fuoco a qualcosa sarebbe divertente sarebbe ancora meglio congelare qualcosa per esempio jacob e ragazze smettetela di chiacchierare beh non avrebbe dovuto farlo dobbiamo vendicarci di lei credo che lei abbia bisogno di calmarci un po professoressa non vedo niente è congelato com'è possibile è strano bella mossa ora tocca a te guarda fuoco che sta succedendo qui bene signora fisher la prossima volta ci pensi due volte prima di rimproverare studenti con capacità così particolari bruciare carboni ardenti e cubetti di ghiaccio questo è un nuovo compito per le nostre ragazze rose nicole siete pronte certo allora iniziamo scegliete voi oh no volevo i carboni ardenti dai speravo di prendere il ghiaccio sembra che un gioco innocente si stia trasformando e non avere propria sfida oggi fa così freddo voglio camminare sui miei carboni ardenti non è giusto ho vinto sembra che nicola abbia una resistenza al freddo guardare film insieme non è mai noioso per le nostre signorine dopo tutto sanno esattamente come tirarsi su di morale sì il libro è meglio ho un'idea rose guarda penso che il rapporto di questi personaggi sia un po troppo caldo sta diventando freddo qui wow avrei dovuto vestirmi con abiti più caldi fico vero guarda 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 non è tutto sono la regina del cinema è fantastico ora tocca a me le cose si stanno scaldando sì funziona hai ragione così è molto più interessante oh mi sto sciogliendo così va meglio oh no le ragazze sembrano aver esagerato un po andiamo rose non aver paura ti piacerà non è quello che mi ha detto nel solarium è così bello ecco vedrai che è tutto a posto non mi piace il ghiaccio non mi piace questa sfida non essere così arrabbiata rose ora siamo pari wow sono un sacco di attrezzi ho paura di indovinare che sfida ci hanno preparato ecco il vostro compito apriamo al tre siete pronte tre ok ora ti prendo mio tesoro nicole non si arrende così facilmente il ghiaccio a far mio mettere quest'anello con le mie abilità bollenti è facile come spremere un limone oh nicole povera ragazza cosa non è giusto bene l'ultimo compito risolverà le cose e queste pedine eccezionali sono proprio quello che serve per la battaglia finale tra ghiaccio e fuoco sì non ti illudere rose bel tentativo ma avresti dovuto impegnarti di più faceva parte del mio sofisticato piano ecco a te sta vinciando lo so rose guarda sembra che nicole abbia deciso di giocare secondo le sue regole ehi dove sono le mie fiamme non si gioca così non è un mio problema si sono appena spente quindi ho vinto cosa preferisci freddo o caldo non vediamo l'ora di leggere la risposta nei commenti qui sotto ti è piaciuto il video se ti è piaciuto iscriviti al nostro canale fai clic sul campanello a presto ciao 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 ciao